Grazie Presidente, ringrazio il Ministro, nei cinque minuti a disposizione io potrò affrontare solamente la prima questione che lei ha affrontato oggi in questa audizione, Ministro, cioè quella del tragico naufragio, così lei l'ha definito. Io credo che siamo di fronte a una tragedia immane e abbiamo però dei margini di peggioramento che sono dati dal fatto che le istituzioni si esprimano di fronte a questa tragedia non con la corretta e adeguata postura istituzionale e cioè esprimendo i principi costituzionali, i nostri principi costituzionali. E crediamo che lei non abbia fatto questo in queste ore ed è il motivo per cui, lo abbiamo detto pubblicamente, lo ribadiamo in questa sede e crediamo che lei dovrebbe rassegnare le dimissioni. Ciò nonostante, evidentemente lei è qui, le pongo alcune domande. Intanto la prima di metodo democratico, che cosa impedisce al governo di rispondere alla richiesta di un'informativa urgente? La questione che vi sia un'inchiesta giudiziaria è questione del tutto distinta e parallela. È necessario che vi sia una pronuncia da parte del governo, per quanto di propria competenza, sugli aspetti di responsabilità politica e amministrativa. Le domande sono molto definite e spero di ricevere una risposta altrettanto chiara e definita. Quale autorità e quali elementi determinano la classificazione di eventi come quello che ha portato al tragico naufragio, che lei così lo ha definito, invece come eventi di law enforcement, anziché come eventi SAR? Se l'autorità sia l'NCC, cioè il Centro Nazionale di Coordinamento presso il Viminale. Lei ci ha detto che in base alle indicazioni arrivate dall'Aereo Frontex, dall'avvistamento all'Aereo Frontex, non c'erano elementi che facessero pensare a un rischio, un rischio per la vita delle persone che erano a bordo di quell'imbarcazione, perché la comunicazione di Frontex riportava una buona galleggiabilità. Ora, noi sappiamo, perché abbiamo frequentato queste aule e abbiamo ascoltato le audizioni della Guardia Costiera, ne cito una, quella del 2017, che tutte le imbarcazioni di migranti sono a rischio, per definizione, per il numero di persone che trasportano, per la tipologia di imbarcazione, per il fatto che non hanno dei sistemi di sicurezza in linea con le normative italiane. Quindi, questo, diciamo, la Guardia Costiera utilizzò in quest'aula la definizione di principio di precauzione. Ora, la domanda è perché non è stato utilizzato il principio di precauzione in questo caso. Quasi sicuramente, considerata la nazionalità delle persone che erano a bordo di quella imbarcazione, quelle persone erano, come dire, meritevoli, ma brutta parola, probabilmente sarebbe stata riconosciuta loro, e lo sarà, a quelle che decideranno di fare domanda di protezione internazionale, la protezione internazionale. Lei ha citato Kennedy, dicendo, non chiedetevi che cosa può fare il vostro paese per voi, ma cosa voi potete fare per il vostro paese. Ora, io le chiedo, che cosa può fare un ragazzino afgano per il proprio paese in cui c'è il regime dei talebani? Che cosa può fare una famiglia di iraniani per il proprio paese? E che cosa possono aspettarsi dal nostro paese? Io credo che quantomeno dovrebbero aspettarsi quello che prevede la nostra Costituzione. Lo slittamento che avviene e che ora in queste ore sta mettendo in imbarazzo, e concludo, anche le nostre forze, le varie forze armate, la Guardia di Costiera, la Guardia di Finanza, alle quali va sempre, andrà sempre la nostra riconoscenza per il senso delle istituzioni con le quali in anni passati, quando c'era una maggiore chiarezza nella guida politica dei nostri governi, hanno svolto un compito senza tentennamenti. Ecco, è esattamente lo slittamento che c'è nel non considerare che chi entra nel nostro paese va a soccorso. La valutazione è successiva, se si tratti di un migrante irregolare o se si tratti di una persona alla quale va riconosciuta una protezione internazionale. Se lo slittamento avviene prima e non c'è, e non si mette in moto una macchina di salvataggio, perché qualcuno decide che è un'operazione di law enforcement e non un'operazione di search and rescue, allora c'è qualcosa che non funziona. Noi su questo vorremmo una risposta precisa. Infine, abbiamo ascoltato, letto, ma non sappiamo adesso nemmeno più, perché le dichiarazioni del suo governo oscillano di 12 ore in 12 ore, di 24 ore in 24 ore, che il ministro Lollo Brigida ha annunciato l'ingresso di 500.000 migranti in maniera legale e regolare. Ora, siccome questa è la commissione che dovrebbe occuparsi delle politiche migratorie nel nostro paese e non la commissione agricoltura, le chiedo se questo significa che è, nelle intenzioni del suo governo e del suo dicastero, modificare la legge Bossi Fini, perché da lì dovrebbe passare la possibilità di accessi legali oppure no. Grazie.